Cosa succede? Cosa succede in città? C'è qualche cosa, qualcosa che non va. Guarda lì, guardala, che confusione. Guarda lì, guardala, che male tu canti non va. Tante le iniziative che vedranno in questo periodo natalizio il centro e i quartieri protagonisti. Beh, noi abbiamo scommesso due anni fa sul fatto che investire nella iniziativa in promozione, in rivitalizzazione, nell'offerta culturale, nell'offerta di aggregazione potesse incrociare una reazione della città. C'è stata. Era commessa, poteva anche non funzionare. C'è stata. Oggi non c'è dubbio che i fine settimana la città si ripopola come credo, onestamente, non si vedeva da chissà quanti anni. Si ripopola con soddisfazione dei cittadini che ritrovano nel centro storico luoghi dove si può tornare a passeggiare, a vedere delle cose. Si torna nei teatri, si torna nei luoghi di aggregazione, c'è un'offerta culturale del Teatro Grande, del CTB, c'è un'offerta culturale di Fondazione Brescia Musei, le due mostre bellissime che sono in corso adesso, quella di Sciagall e quella della Brescia Romana, sono di altissimo livello. Quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta. E poi torna anche l'aggregazione di piazza, che a me piace molto sottolineare, cioè di popolo. C'è un'offerta culturale di eccellenza, di nicchia, se volete, o comunque di persona a cui piace la lirica piuttosto che la musica classica. Sì, però ci sono anche migliaia e migliaia di bresciani che vogliono un'offerta culturale anche più prossima, alle loro gusti, alle loro attitudini. E quindi il ritorno quest'anno di scommettere sull'ultimo dell'anno, grazie anche a voi e a chi ha deciso di provarci, è un po' una misurazione. Perché è dal 2004 che non si faceva più nessuna iniziativa, diciamo all'ultimo dell'anno, in maniera significativa nel centro. Ci auguriamo che tutto vada bene. C'è un'offerta peraltro abbastanza interessante, perché CTB fa un'iniziativa all'ultimo dell'anno, a cui si aggiunge un'iniziativa di piazza, loggia, con l'orchestra del Festival di Franciacorta, che farà tutte le canzoni di Morricone, dalle 20.30 alle 22.30, a cui si aggiunge poi l'iniziativa in piazza della Vittoria con Regis e ovviamente contemporaneamente l'apertura del palaghiaccio in piazza del Duomo, che in collegamento anche radio seguirà anche le battute di Regis e le iniziative che avvengono in piazza Vittoria. Quindi piazza loggia, piazza Vittoria, piazza del Duomo. Insomma, scommettere sul fatto che possa essere una grande festa delle famiglie e dei ragazzi. Quello è un po', diciamo, la mia ossessione, cioè che la città deve essere a misura di famiglia, a misura di persona che non ha voglia di grane, ma ha voglia di passare qualche ora insieme. Noi abbiamo in queste feste un po' scommesso da tre anni su un tema, che è lo stupore, la magia, l'incanto. Cioè, questa è un'occasione dell'anno in cui vogliamo tornare ad essere un po' tutti bambini. Bambini nel senso di stupirci ogni volta, ogni giorno che ci svegliamo, della grandissima opportunità che abbiamo ciascuno di noi, di vivere. Vivere è a volte una fatica, a volte troviamo delle difficoltà, però è anche un'opportunità unica. È una straordinaria esperienza che possiamo, ciascuno di noi, fare, se ritroviamo quello spirito lì. Quando ero ragazzino, tra Carducci e Pascoli, io sceglievo sempre Pascoli, perché Carducci mi sembrava un po' più noioso, mentre Pascoli mi piaceva molto di più, perché un po', diciamo, faceva scattare un po' il cuore e l'anima. E non a caso, quando diceva, dobbiamo tornare tutti a guardare la vita con gli occhi dei bambini. Io penso che il Natale ci aiuti a guardare la vita con gli occhi dei bambini. Chi ha dei bambini e chi non li ha. Perché i bambini sono diventi grandi o perché non hanno ancora dei bimbi. Ma l'occhio è quello lì. Cioè abbiamo voglia di stupirci, di vedere la vita che può trasformarsi e quindi il mio augurio più grande è quello di ritrovare quello spirito lì. Perché è lo spirito giusto, è lo spirito che ci aiuta a superare le difficoltà ed è lo spirito che hanno tipicamente i bambini, che sono disarmanti nella verità delle cose che ti dicono, ma anche capaci di sognare, quindi di giocare anche con una macchinina tutto giorno o semplicemente innamorarsi guardando dei colori o semplicemente un gioco di colori. Quindi io penso che questo sia un po' lo spirito che dobbiamo avere anche noi bresciani, cioè crederci, perché ce la possiamo fare, possiamo essere una buona comunità, pure nelle nostre difficoltà, ma una buona comunità che cresce. Cosa succede, cosa succede in città? C'è qualche cosa, qualcosa che non va. Guardali, guardala, che confusione. Guardali, guardala, che male il cazzo.